bella vecchi trapani per tornare oggi sul canale di granas e siamo tornati con le fuc ogni faccio una scossa no mi sento molto chiusci 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 che stupido allora cominciamo subito con le domande senza bandare le cianci capito che non bando le cianci si e la prima domanda ce la fa Andrea Gatti che ci chiede date un aggettivo positivo ad ogni vostro amico youtuber aia oggi è il faccio cominciamo da frax altruista e te boh in realtà va a correvo di quello veloce però altruista altruista poi dread alcolizzato positivo è positivo per me è alcol positivo è alcol positivo perché andiamo sempre a bere insieme vabbè divertente Ron meticoloso alcolizzato anche lui positivo sempre è sempre in modo positivo poi gabbo 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 come cioè un aggettivo non gli ho voi dà a gabbo fantastico fantastico te lo dico con la penna di plastico tu sei fantastico vabbè comunque gabbo è gabbo quindi no gabbo non riesca a dare un aggettivo però basta gabbo l'aggettivo è gabbo quindi se 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 la prossima per descrivere ti dirò un aggettivo di un aggettivo di xenic gabbo c'è stata questa cosa vedi sta cazzata praticamente si bravo anche lei johnny creek johnny creek oggi un po' cioccoso moroso si capito totale cioè che voglio abbracciarlo ogni volta zampippi alcolizzato alcolizzato ila e laila li mettiamo insieme ila e laila no io l'ho io mette separate allora ila laila ma che che aggettivo che non è un aggettivo No, Layla... Oscura, va bene No, Layla è simpatica e tutto quanto Omenti, lei è stupida, è idiota È ballaziente No, vabbè Voglio bene a tutte e due, quindi... Passiamo a Deluxe Creativo Deluxe è forte, Deluxe è fortissimo Deluxe è veramente... I Pokémon I Pokémon, incredibile i Pokémon Francesco Carboneo Si, Carbone Ci chiede Leggereste mai il libro che contiene il finale della vostra vita? Cioè, lo dite un po' male, eh? Leggereste il finale del libro della vostra vita? Tu lo leggeresti il finale del libro della tua vita? No, neanche io No, perché se tu leggi il finale del libro della tua vita A parte che è morto Però, vabbè Se scopri quando muoio Cioè, no, se scopri che morirai in un modo di merda De più a male per tutta la vita Quindi non si può cambiare Ok Ti dice, vabbè, mi suicidio Però a seconda di quante pagine sarà il libro? A meno che non sei stato in coma per vent'anni Quindi, coma per vent'anni Venti anni dopo Si sveglia dal coma Ma pure muore Venti anni dopo Si sveglia dal coma E casca Muore E cioè E niente Dopo tutte ste cazzate Comunque no Neanche io lo leggerei Perché non sarebbe veramente la bellezza A fine Alessia gioia Ma è una gioia O fu sempre una gioia E fuck La vostra serie tv preferita Ciao belli Ciao bella Ciao bello Non ho mai stato restiti perché ovviamente lui è fantastico unico mentre io faccio schifo E la vostra serie tv preferita Ce ne sono tanto sai No la mia preferita in assoluto è una E non so quanti tv avrebbero vista ma se non l'avete fatto guardate Porco dinci Ma fai svinite parlare Ah ho capito Quella testa a vedere mo' ultimamente Ho capito No ma anche quella Ho finito a vedere Charlie chi vuole Charlie Charlie Non ho mai visto una serie comunque che si chiama Charlie Però vabbè Charlie's Angels Porca puttana mi fai parlare Non ho visto Charlie's Angels Ho visto Charlie's Angels E allora sei zitto Solo i film Vabbè comunque Non ho visto Charlie Brown Vabbè vuoi dire la prima idea Dai vai vai Non ho visto Charlie E' Dexter comunque Sue mani Festa pop 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 esatto il pochi capiranno breaking bad vai poi vorrei di breaking bad però è troppo scontata una cosa e sotto il bike in bed mentre break in bed mi piaciuta tantissimo non sono riusciti a rivedermela house of cards tipo me la me la vede la prima stagione la turista quattro volte la seconda 3 la prima terza che uscita da poco me la sovvista due volte una in inglese sottotitolata e una in italiano originale è veramente una serie che mi piace troppo perché fatta veramente troppo bene quindi secondo me la mia serie preferita è house of cards cioè non ci stanno dubbi a questo punto parentesi capito perché ci chiamo granas per questo motivo guardate la maglietta e rispondetevi basta ciao dimoni fuck basta imparatevelo Alice Vogue che salutiamo ciao no io no però vabbè vai ciao ciao e prima o poi vincerà il TV Crack tranquilla ci chiede preferireste avere Emily Ratajkowski io ho risposto quindi vai Emily Ratajkowski per una settimana scoprite che vi hanno lasciato in eredità una somma enorme di denaro premettendo che con il denaro non potreste avere Emily Ratajkowski se no è troppo facile ok e innanzitutto complimenti perché sei l'unica che è riuscito a coniugare bene i verbi durante la frase cioè durante la domanda quindi un applauso per te però perde comunque il TV Crack esatto e allora io ho risposta proprio Pam è Emily tutta la vita cioè proprio non ci metta la firma io mi prenderei una grande somma di eredità perché Emily Ratajkowski è una grande somma di eredità di eredità no di denaro perché non si sa perché magari che ne so se è un milione va bene cioè se è tipo 500 mila euro no poi appunto è Emily Ratajkowski perché poi no no eh no capito poi vai non la vedi proprio vai in tempo raccontarlo raccontarlo non la vedi proprio del mondo si ma non la vedi proprio scorsa vabbè comunque è mia mi fai finire parlando è mia allora premesso che non mi fai impazzire a me se c'è la grande somma di denaro ma perché sto a fa youtube con lui cioè c'è una grande somma di denaro mi prendo il denaro poi con quel denaro mi prendo tante altre magari si trova anche qualcuna meglio di lei quindi no non è possibile io vorrei lanciare l'hashtag senti basta guardare l'instagram di Dan Beerseram no non le conosci però sono meglio di lei alcune no non esiste proprio vabbè guarda allora aiutatemi perché veramente io sono follemente non sto scherzando cioè questo è un discorso serio sono follemente innamorato di Emily Ratajkowski quindi come ha fatto frax con Sheryl Pandemonium per favore sotto ogni cazzo di foto di instagram che mette mettete l'hashtag posaxeni anche magari qualcosa di italiano lo sa quindi cioè bombardatela con l'hashtag vi prego vi scongiuro così magari si accorgerà di me come lo fate con l'inseipelas no non ve lo inculate prima fatelo con me cioè intanto lui non prova quello che è proprio io Emily no fidate cioè io l'amo ma è sul 6 io l'amo nel vero senso allora fate così cercate l'inseipelas sottate le foto di insipelas scrivete Mary e metagate a me su instagram così può essere che me segue da lì nasce questa cosa a me come Emily ma fatelo in tanti per me Mary Darryl11 e metagate su instagram Mary Maxenic17 non ve sbagliate perché io la pelas non la voglio voglio Emily grazie e io non ve sbagliate perché io la pelas non la voglio voglio Emily grazie va bene prossimo Luca Caponera ci fa una domanda calcistica perché in questo momento noi ci trasformiamo in Pedulla e Di Marzio vai e perché io Pedulla però scusa perché io voglio essere Di Marzio va bene ok a me da dire Pedulla pure ci sa fare comunque ci chiede due acquisti fattibili non la vincere Royce che vorreste che vorreste rispettivamente per Roma e Inter centrocampo con dobbià ah due acquisti centrocampo con dobbià cioè io voglio con dobbià attacco bacca che ne so un Varane Sergio Ramos cioè non so proprio fattibile però a quello che ci sono ma non è fattibile Sergio Ramos dai non so vabbè non è manco troppo difficile ma che cazzo stai a dire non è manco troppo un Bernat anche certo per lui è molto fattibile ma poi diciamo che a noi ci serve più un attaccante che un centrocampista perché a centrocampo tagavamo male però tagavamo quindi boh una punta a me non mi farebbe schifo con Van Persi sinceramente molto fattibile anche lui perché non è fattibile mi ha valutato 12 milioni di euro ma sti cazzo ma vai tranquillo ma si è vostro solo riduce l'ingaggio si certo un Cavani che vedo che sta in rottura è vostro anche Cavani è vostro sono tutti fattibili quelli che è il vostro ma che infatti io non lo dico Cavani vabbè ma sta in rottura cioè tu devi pensare al momento cioè come stanno messi adesso ok sta in rottura va bene facciamoci questo calco Cavani prende 10-12 no ne abbiamo 8 8 ok il cartellino costa almeno 50 milioni ma che 50 io ne dai 20 e stanno apposta dai certo ci fanno un sconto ma come li chiami? banco dei pugni dai tranquillo il mio figlio poteva morire vabbè comunque no tutti acquisti fattibili aspetta no infattibile sinceramente si no pure io no no bacca non mi dispiacerebbe pure cosa a me mi è sempre piaciuto da un babà non lo so perché però mi è sempre piaciuto quindi pure lui non è che sarebbe male bacca e babacca fai babacca un babacca eh vai vabbè Manuel Bruno ci chiede cosa fareste se davanti a voi ci posto la macchina nel tempo andreste nel passato o nel futuro e perchè? passato è un movimento personale qual è? è un movimento personale lo rinasceresti ma che cazzo? mi hai fatto da mia madre no non devi tromba no no non è quello è come leggere il finale della tua vita però magari se vai avanti ne so di 10 anni bebedese magari già sei morto che cazzo ne sai scusa beh si ti ritrovi in un buco nero se sei morto no vabbè però magari dici tu sto tu sto tu sto tu sto 10 davidare la tomba cioè vabbè che ne so magari se vai avanti tra 10 anni per vedere se quello che stai facendo adesso ti può portare a qualcosa e quindi cambi subito idea capito? se vedi che quello che hai fatto se vedo che tra 10 anni sarò un barbone lascio perdere quello che sto a fare adesso e farei un'altra cosa poi questo gli andrei avanti o magari te sarai un barbone perchè ti spuntanerei tutti i soldi magari sarò un barbone perchè io ho visto che sono un barbone quindi lascio questa cosa pensando di di farmi bene invece di avere un barbone proprio per quello perchè sono andato avanti nel tempo perchè questo è tutto un paradosso temporale quindi non ci andrei avanti e andrei indietro io andrei avanti solo quest'arte estate quindi mi sta poco sul calzo ma solo per quello andrei indietro di 20 minuti e non sceglierei questa domanda ragazzi il fuck è finito per oggi vabbè perchè è una domanda che metti in crisi pensateci anche voi pensateci a questa domanda pensateci no soprattutto pensate ogni tanto e soprattutto andate sul profilo di lì LINDSEY PELAS e scrivete Merri e Ftacali e su quello della Radakovski è MRATA e scrivete Merri xT Perchè non conoscesse lindseipelas sul profilo di Dan Beelzeian l'ha trovati Ah ma basta che faccio il profilo di lindseipelas E perchè non c'era a scrivere lindseipelas e alla lindseipelas e alla lindseipelas con la yps non finale pelas e pelas come pela patate peró pelas pelas se pela la figa lindseipelas ragazzi tutto questo il video è finito ricordatevi di andare a scrivere sulle pacheche esatto C'è anche su Instagram E' la cosa più importante Lasciate 10.000 like se volete vedere il video del matrimonio Di mio con Lindsay e suo con Emily E ci sarà il matrimonio Lo sappiamo perché se voi Grazie alla vostra forza che andrete a scrivere le loro bacheche Noi seguiremo E' bello sapere che il mio obiettivo nella vita E' almeno vederla dal vivo una volta Ce lo sentiamo Make a wish Vai ciao Give these two guys a wish A dream Emily I love you Dreams come true Nothing is impossible Mamma e Nike Ci hanno pagato E niente ragazzi Il prossimo video 10.000 like Bella Ciao